Salve a tutti, 10 agosto 2021, c'è grande fermento nella tifoseria romanista per le voci che vorrebbero il giovane Tammai Abram vicino alla Roma. Mi sono studiato un po' questo elemento che Mourinho conosce veramente molto bene per averla avuto nelle giovanili del Chelsea quando allenava appunto la squadra londinese. Un giocatore di lotte e di governo, un giocatore da battaglia molto pressante, giovane, mi pare che abbia 24 anni, molto alto, mi sembra uno che ama anche partire da lontano. Un profilo abbastanza sorprendente nel senso che pensavo magari che invece di puntare su un nome che sicuramente crescerà, si valorizzerà. Magari avrei puntato un po' sull'usato sicuro, visto che sarà un anno un po' particolare questo, un anno comunque di transizione per la Roma. Riccardi mi sembrava proprio che potesse andare bene, ma io naturalmente il mio pallino era Cavani, ma Cavani quando ci viene a Roma con queste premesse? Se la squadra non è ancora chiaramente nella condizione di poter puntare così in alto. Comunque vedremo se Abraham, tra l'altro la Roma e il Chelsea hanno già raggiunto il loro accordo economico. Non c'è però ancora l'accordo col giocatore che pare che voglia andare all'Arsenal, come sapete. Non lo so, con tutta questa storia c'è qualcosa che non mi convince, ma il piano B a questo punto è diventato Belotti. Io penso che si può fare veramente di meglio, comunque nelle prossime settimane continueremo a seguire cosa succede, partendo però dal presupposto che ripeto oggi è il 10 agosto, il 22 agosto c'è il debutto in campionato contro la Fiorentina nello Stato Olimpico, quindi non lo so, mi sembra che siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia, ma comunque vedremo. Io in questo video, come avrete notato, mi sono messo tutta elegante, mi sono messo la camicia per fare il figo, e ora mi metto pure l'orologio figo, così faccio il figo fino in fondo. Oh, vedi, ho l'orologio da cumenda, da cumenda, eccolo qua, l'orologio da cumenda. Voglio parlare invece di letteratura, voglio parlare seriamente di letteratura. Innanzitutto vi faccio vedere la copertina bellissima, che è veramente bella, del mio ultimo libro, che si chiama Il diavolo negli occhi. Il diavolo negli occhi, diciamo che, come già il titolo vi dice, è un libro nel quale si avrà tanta, tanta paura, tanta paura. Ma no, ma è un libro sull'usura, è un libro sull'usura, in realtà è un libro impegnato. L'usura è una piaga sociale che solo quando, cioè sono quelle cose che sembra che riguardano sempre gli altri. È come gli incidenti stradali, finché non va a sbattere tu, l'incidente stradale è sempre qualcosa che riguarda altri. Quindi, quando ti ritrovi un bel giorno che apri gli occhi in un, levo l'orologio che, così, il cumenda non fa per me oggi, quando ti ritrovi in un letto d'ospedale che apri gli occhi e ti trovi magari che ti sei rotto qualche cosa, purtroppo a me, da ragazzo è anche successo, capisci che invece l'incidente stradale può riguardare anche te, può toccare anche te. È come quando muore un tuo caro, no? Che tu pensi sempre che moriranno, non lo so, i genitori degli altri, e invece succede anche a te queste cose, queste situazioni qua. Che tu immagini nella vita, cioè, sono cose, idee proprio che tieni lontane, le tieni lontane. L'usura, oppure, non so, un altro esempio, il figlio che si droga, tu pensi sempre che il tuo figlio non si drogherà mai, poi invece un bel giorno scopri che magari ci sono questi problemi, cioè, queste cose che noi proprio non vogliamo accettare, no? Che possano accaderci, invece sono molto frequenti. L'usura è un'altra di quelle situazioni, nelle quali si può accadere con molta facilità, come ben sanno tutti coloro i quali hanno o hanno avuto un commercio. È un tema veramente molto, molto delicato. Tra l'altro, io sono originario, come sapete, di Latina, quindi, diciamo, del Lazio, che è un territorio che, soprattutto nell'area romana, ma anche latinenze, ha tutta una serie, diciamo, di clan che hanno sempre prosperato sull'usura, partendo prima dalle estorsioni, poi questi soldi vengono reinvestiti attraverso l'usura e alla fine vengono portate via, letteralmente portate via, delle attività commerciali che diventano di proprietà di questi clan e che, quindi, riciclano poi questi denari in mille maniere. È una tragedia sociale, proprio. Ma, poi, di questo libro parleremo molto più dettagliatamente. Adesso vi faccio vedere la bella copertina, il diavolo negli occhi, questa è la quarta. Molto bello questo libro, a livello, diciamo, di grafica. Ecco, non parlo, diciamo, di com'è scritto, perché quello lo lascio dire a voi. Facilissimo da reperire, basta andare su Amazon.it e scrivere Fernando Bazzoli, vi escono tutti i miei libri, oppure, insomma, il diavolo negli occhi di Fernando Bazzoli, vi arriva a casa, lo ordinate, vi arriva tranquillamente a casa. Ma voglio parlare, però, in questo video qua, più dettagli, cominciare a parlare maggiormente di un altro libro che mi piace molto e nel quale credo molto, che abbiamo scritto a quattro mani, in un certo senso, beh, non proprio a quattro mani, perché a quattro mani di solito è un libro che viene scritto, cioè, un romanzo tipo Sveva Casati Modignani, no, che era marito e moglie che scrivevano insieme il libro, poi lo firmavano con un unico nome, poi il marito purtroppo è mancato, però lo scrivevano a quattro mani. Qua invece è un'antologia, anche qui veramente c'è da avere paura, 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 molta paura. Insania, insania, lo abbiamo scritto, quindi io e Silvia faccio cinque racconti miei, cinque racconti di Silvia che di Genova, la copertina ve l'ho fatta vedere, faccio vedere anche la quarta, così giusto, bella anche la quarta. Ecco, vi leggo la quarta, cominciamo a capire un po' di che cosa parliamo. Allora, antologia che comprende vari racconti già premiati dalle giurie di diversi premi letterari, più alcuni inediti di Silvia, autrice, tra l'altro della saga fantasy Intrighi del mondo ignoto, è uscito il primo volume che ho anche qui, La sesta regina, vi consiglio di procurarlo anche questo facilmente su Amazon.it. Silvia e Fernando si alternano in questa antologia di racconti per palati fini e stomaci forti, giocando con sapienza e spregiudicatezza tra il brivido e la follia, conducono il lettore in una spirale narrativa dalle tinte fosche, senza altro, dalla trama imprevedibile dove il macabro sposa l'insania, l'amore si confonde con la morte e l'incubo è figlio del delitto. Però, ammazza, mi piace questa quarta ricopertina, vi rileggo il finale e mi ha colpito, lo vediamo un po'. Conducono il lettore in una spirale narrativa dalle tinte fosche e dalla trama imprevedibile dove il macabro sposa l'insania, l'amore si confonde con la morte e l'incubo è figlio del delitto. Però, è meglio la quarta ricopertina del libro quasi quasi. Allora, beh sì, le quarte ricopertina, le prefazioni, le introduzioni, le recensioni, tutte cose importanti, perché la quarta, è vero che la copertina è quella che deve sempre colpire, colpire l'attenzione subito, immediata. Però, la quarta è la prima cosa che uno si va a leggere, diciamo la verità, quindi le informazioni che ci sono hanno il loro rilievo. Allora, parliamo un attimo, un attimino, diciamo, dei racconti miei. Allora, il primo racconto è L'amaro sapore del disagio. L'antologia è uscita proprio da pochissimo, ripeto ancora su Amazon.it, la trovate. Il primo racconto è Demon Incubus di Silvia, che è bellissimo racconto, infatti lo abbiamo messo per primo, perché è veramente molto bello. Poi, poi ne parleremo anche con lei più diffusamente, magari facciamo anche leggere. L'amaro sapore del disagio, un racconto nel quale io racconto che ebbe una menzione, una segnalazione al premio letterario Daniele Boccardi. Daniele Boccardi, si ricordo bene, era un autore che ha avuto una carriera particolarmente breve e morì suicida, come purtroppo devo dire molti scrittori. Negli ultimi dieci giorni sono scomparsi due importanti autori italiani, Antonio Pennacchi, dal quale probabilmente dedicherò un video a parte, perché è un autore della mia città, insomma, Dalle miei streghe del 2010 con Canale Mussolini, un autore molto importante, anche molto conosciuto, e Stefano Di Marino, che viveva a Milano. Tra l'altro anche lui ha partecipato a un'importante che ha messo letteraria proprio a Latina la mia città, la città di Pennacchi, anche giallo latino mi pare che si chiamava o qualcosa del genere. Autore di 200 romanzi, l'autore è in quota Mondadori, con diversi anche pseudonimi, era un maestro di arti marziali, lo pseudonimo più conosciuto, mi pare che si ricordo bene, è Stephen Gunn, perché io non sono proprio un frequentatore di quel tipo, io vengo più dalla letteratura tradizionale, diciamo, in particolare dalla letteratura italiana. Lui invece è proprio uno scrittore di genere e e si è tolto la vita Stefano Di Marino, quindi aveva quasi 60 anni. Aveva scritto su Facebook che stava attraversando un periodo non facile, periodo non facile purtroppo non vuol dire niente perché li attraversiamo tutti periodi non facili, sicuramente non è il primo scrittore che si toglie la vita. Sono veramente tanti, sì, sono tanti. Emilio Salgari, per esempio. Non lo so, io a commento di un ricordo di lui fatto da Raul Montanari su Facebook, ho commentato di avere il coraggio di dire che sicuramente la carriera e la vita di uno scrittore spesso non sono facile, non sono una cosa molto bella, molto affascinante, ma spesso ci troviamo di fronte a delle vite tormentate, a delle vite problematiche. Bisogna trovare molto bene il bandolo della matassa della propria esistenza perché altrimenti si rischia di perdere il filo del proprio destino, secondo me, ma questo non significa che uno, perché fa lo scrittore, poi si toglie la vita. Comunque, rispettiamo le scelte, le decisioni di tutti, anche perché non possiamo sapere quali sono stati i veri motivi. Comunque, insomma, sono due perdite pesanti, sicuramente. Pernacchi poi è scomparso improvvisamente, mi pare di aver capito che è un arresto cardiaco, immagino che la mia città gli dedicherà perlomeno la biblioteca comunale, non dico tanto, ma almeno la biblioteca perché è stato un personaggio sicuramente molto importante, anche se la città di Latina ha espresso anche prima di lui un altro premio strega, si tratta di Stanislao Nievo che ha vinto premio strega nel 1987 con un titolo che in questo momento, le isole delle meraviglie, mi pare che era, mi sfugge. Tra l'altro, l'autore scrive molto bene, quindi già due, anche se poi lui nel 1946 si è trasferito, è andato a Roma, però insomma è cresciuto nell'agro continuo, diciamo. Vabbè, comunque adesso mi sto dilungando troppo, andiamo sull'amaro saputo del disagio, che sono arrivato a fare questo ragionamento partendo dal fatto che Daniele Boccati si è suicidato, va bene. Il tema trattato è nato dal fatto che quando io andavo a Roma a studiare in treno non c'era praticamente una mia amica che non mi dicesse, non si lamentasse di essere stata o di essere vittima di molestie. Molestie c'era chi seguiva queste ragazze, chi si sedeva morbosamente vicino a loro, sui sedili degli scompattimenti, chi si strusciava, chi allungava i piedi, fino a cose più grave, anche gente che è stata praticamente aggredita. È successo un po' troppe volte secondo me, al punto che noi infatti dicevamo tutto che tutti che sui treni forse ci vorrebbe, all'epoca adesso non vogliono neanche sapere cosa sono diventati i treni, ci vorrebbe un poliziotto in sostanza su ogni treno, insomma, un maggiore controllo. Quei treni poi erano molto complicati perché erano i treni presi dai pendolai, dagli studenti, quindi treni che tu prendevi magari 6 e mezzo, da Latina per andare a Roma, e arrivavano i treni da Napoli, da Reggio Calabria, di gente che aveva dormito sostanzialmente in treno, che aveva partita magari le due di notte da Napoli, dove avevo dare Gio Calabria, aveva fatto tutta la notte in treno, quindi entravi in scompartimenti che erano un po' come dire degradati, ecco, a dir poco, dove la cosa migliore che ti poteva capitare è imbattiti in un puzzo di piedi e di calcini tremendo, e quindi in questo contesto maturavano queste molestie, queste cose un po' veramente pesanti, insomma, per le ragazze, soprattutto per quelle più giovani, studentesse che magari andavano all'università e si trovavano sta gente che le pedinava, che allungava le mani, sono state diverse e non conosciute, che è stata palpeggiata, che è stata, cose di questo tipo, e anche vicende più grave, adesso non stiamo ad approfondire, ma è una situazione che mi ha molto colpito, perché io dicevo, pensavo, che non mi rendevo conto che essere uomini, essere maschi, ragazzi, ha degli indubbi vantaggi, perché per un'altra non altro nessuno ti rompe le scatole in questo senso, perché tutto questo naturalmente non è giusto, non è assolutamente giusto, era un problema sociale che mi appariva veramente molto grave, che però è stato abbastanza stemperato dalla diffusione dei cellulari, perché quando io frequentavo l'università, praticamente i primi anni 90, è passato un sacco di tempo, con l'avvento dei cellulari, sta gente si è calmata, perché col cellulare puoi chiamare la polizia, chiamare qualcuno, fare foto, fare video, capito, quindi puoi fare tante di cose, per mettere nei guai un aggressore, infatti io ricordo, per esempio, amiche che quando hanno cominciato a dare il cellulare, che dicevano, io spesso, te, sto camminando la sola, faccio finta di parlare al telefono, tengo il telefono, parlo, in modo che se qualcuno mi deve scocciare, pensa che c'è un'altra persona che in qualsiasi momento potrebbe arrivare, perché lo potrei avvertire, insomma la libertà ragazzi è meno scontata, la libertà di andarsene in giro è meno scontata di quello che sembra, amaro savole del disagio, vediamo un po' se riesco a trovare 23, leggo qualche riga, come vedete dalla narrativa, dalla letteratura possono scaturire tematiche sociali, riflessioni che sono praticamente infinite, è un po' questo la grande risorsa della narrativa della letteratura, allora, l'amaro savole del disagio, il paccio calza due scarpe di colore diverso, il modello si direbbe lo stesso, ma una è nera, l'altra marrone, brutto segno, mia cugina direbbe che sta fuori come un balcone, mio fratello fuori come un citofono, ma la sostanza è sempre la stessa, è fuori di testa, le struscia contro le mie con le scarpacce e si mordicchia la lingua, sudaticcio, obeso, la barba ciuffi, indossa un cappelletto celeste con lo stemma del Napoli, la faccia di Maradona e la scritta Diego nel cuore, naturalmente qua il concetto non è che io ce l'ho con i napoletani, è che anzi, è che naturalmente come vi dicevo prima parliamo di un treno che arriva da Napoli, da Napoli o da Reggio Calabria, per quello se fosse stato un treno che arrivava magari da Torino ci aveva messo del Piero invece di Maradona, è chiaro questo, alla fine il calcio ritorna sempre, non ha fretta, anzi si è stravaccato nel sedile del diretto partito da Reggio Calabria in questo caso, il solito treno, zeppo di studenti, pendolari e maniaci, sono salita latina, scenderò a Roma, salvo corposi ritardi, ci vogliono 40-45 minuti, ma all'amaro sapore del disagio di questi incontri-scontri, vere epifanie dell'orrore, non ci si abitua mai, poi continua. Insomma, penso che con questo incipit ho sintetizzato bene il quadro dell'incubo in cui una ragazza tranquilla che se ne va a studiare, se ne va a lavorare, sale su un treno e immediatamente si trova il mostro di turno con tutto quello che ne consegue, con tutti i pericoli, lo stress, immaginate una che sta andata a fare un esame di ingegneria, per esempio, di medicina, che ha la capoccia, che fonde, che si trova dove è fronteggiato uno, che ti struscia i piedi, ti guarda, ti fissa, eccetera, eccetera, è molto fastidioso, ragazzi. Poi, Alice nel paese degli orrori, l'altro racconto, sempre con un tema abbastanza forte, tema noir, horror quasi, è un racconto molto particolare questo, ambientata latina, questo non è neanche tanto facile sintetizzarlo, anche qui diciamo che il vero tema è la droga in sostanza di come l'uso di droghe può ridurre veramente in pappa i cervelli e portare dei ragazzi giovani in un ambiente anche piuttosto problematico come la latina non bene, diciamo, la latina popolare, che è una città molto problematica, anche e soprattutto dal punto di vista delle tante sostanze stupefacenti che girano, dove ti può portare, fino a che punto ti può portare, fino a fare della tua vita e anche dei tuoi rapporti amorosi, un vero e proprio incubo, racconto non facile da raccontare, scusate il gioco di parole da raccontare, con una ragazza che conosce un ragazzo in discoteca decide di riuscirsi insieme e anche in questo caso, senza rendersene conto, in un baleno precipita in un incubo, che non vi sto però a svelare troppo. Poi c'è la trappola, racconto ambientato a Trento, in una biblioteca, anzi non proprio a Trento, in una città, diciamo, del Trentino immaginaria, che ho chiamato Tolevistro, qui c'è una storia di un giovane carabiniere che sta svolgendo un'indagine con particolari modalità all'interno di una biblioteca, c'è una storia legata a una password che cela traffici estremamente loschi e con un finale che, non vi dico, anche qui, carabiniere che si trova improvvisamente di fronte a una situazione molto difficile da gestire. Poi c'è Lamerotanti, Lamerotanti, racconto che fu pubblicato da Lampi di Stampa in un'antologia che si chiamava Jam Session, storie di jazz, chi non ha amato Goldrake, chi non ha amato Goldrake, si parla molto di Goldrake, come dice il titolo stesso, anche qui una storia di follia, con la tigre che è in ognuno di noi che esce fuori, la tigre della follia che spiaccia le sue zampate, è una trama bella complessa, devo dire, Lamerotanti, perché si interseca la storia dei Radiohead, del gruppo musicale Radiohead, con la storia di Actarus, di Goldrake, e poi alla fine diventa una storia praticamente di corna, con il ragazzo che scopre la sua compagna con un amante e tutti questi elementi, questo mosaico di emozioni, di situazioni, si ricompone con un finale che in qualche modo rievoca i memorabili scontri di Goldrake, di Actarus, quindi che lo guidava, con i famosi mostri di Re Vega, che un po' tutti conosciamo, perché ripeto, chi non conosce Goldrake. Poi ho fatto il Pesione di Saetta, ho messo in questo volume, racconto molto particolare, perché ebbe, forse anche più successo di quello che meritava in quel momento, nel 2003 addirittura, mi pare che ve l'ho scritto, perché fu pubblicato da Baldino e Castoldi nell'antologia, la prima fortunatissima antologia del premio Racconti di Sabaudia, che ha una storia stranissima questo racconto, perché io ero moderatore di una chat di un sito locale che si chiamava Ciao Latina, e la sera si parlava con tanta gente, c'era questa ragazza che aveva il nickname Saetta, e raccontava la sua curiosissima storia, e da lì è nata questa storia del Pesione di Saetta, che è un'altra trama complicata da raccontare in due parole, nella quale diciamo che si centra molto il rapporto dell'uomo con gli animali, ecco non vi dico altro. Per quanto riguarda invece i racconti di Silvia, vi ho parlato di Demon Incubus, l'alchimista, altro bellissimo racconto, nato di fronte all'immagine di un palazzo, a dir poco diroccato, che ha risvegliato in lei il meccanismo narrativo, sostanta gli ha provocato un'esplosione di situazioni e di idee che ha portato alla scrittura di questa storia, molto particolare, ma di questi racconti di Silvia poi ne parleremo con lei meglio. Poi vediamo un po', e poi c'è l'albo dai fiori scallatti, sempre di Silvia, poi sono gli inediti, la pergamena e non fiat volontà tua, dove c'è un assassino molto particolare che, tornandoci, ricongiungiamo al discorso iniziale dell'amato sapore del disagio, anche qui c'è un uomo che è ossessionato dalle figure femminili per tutta una serie di motivi, è un uomo molto particolare perché è un prete, quindi chiaramente è una tematica in questo racconto bella tosta perché c'è un prete che insomma poi scoprirete leggendo il racconto, altrimenti vi dico troppe cose. Allora, quindi insania, abbiamo cominciato a parlarne, come vedete sono tante le tematiche ma bisognerebbe fare un video per ogni racconto, vi faccio vedere la copertina, parliamo anche un po' del diavolo negli occhi, se ce la faccio, diavolo negli occhi, vediamo un po' se riesca a leggere l'incipit, non mi ricordo mai se si dice incipit, incipit, io mi sbaglio sempre, vediamo un po', allora, complice l'effetto serra, il buco dell'ozono, lo scioglimento dei ghiacciai polari, la deforestazione dell'Amazzonia, l'inflazione al galoppo, la disoccupazione crescente e la diffusione selvaggia dei cellulari, la madre dei cretini sempre incinta e lo scudetto vinto dalla Lazio all'ultima di campionato il 27 luglio dell'anno 2000, giovedì, l'intero quartiere Don Bosco pareva una fornace, come vedete a fine calcio si entra sempre in qualche maniera in tutto quello che dico, il pallone c'entra sempre, in qualsiasi contesto, l'afa incollava le magliette, arroventava le lamiere delle auto, tra via Casidina, via di Torre Spaccata, via Tuscolana, piazza di Cinecittà, via dell'aeroporto, via di Centocelle, perfino le chiazze lattiginose nel cielo parevano sbuffare, ma un attimo dopo eccole confondersi formare nuovi arabeschi, forse preparandosi a fare ritorno al loro originario mistero, più sotto in questo verminoso mondo tutto appariva immateriale, fuori posto, attraversato da intontimenti, torpori, cattivi funzionamenti della memoria, tutto malato, colpito da malocchio, destinato a evaporare senza lasciare tracce, tutto tranne Alvaro il cravattaro, lui si faceva beffe della vampa del sole, camminava verso il bar di Giuliano con un ghigno ambiguo sulla faccia da rettile, scossa da tramestiti di mandibole del gran masticatore di gomme. Insomma così vi ho presentato la figura di Alvaro il cravattaro che è il protagonista, lo strozzino sostanzialmente come si dice a Roma, il magliaro, che come nella copertina, perché questo è, l'opera vuole essere anche un pretesto per parlare di questo gravissimo problema sociale, è come un ragno che tesce la sua tela intorno a una preda, con dei piccoli prestiti e questi piccoli prestiti poi li evitano e così poi alla fine la vittima dell'usura diventa praticamente uno schiavo, diventa un dipendente, diventa un sottomesso, sottoposto dell'usuraio che diventa praticamente quello che gli porterà via tutto quello che ha, proprio come fa un ragno che ha imprigionato un insetto nella sua tela e a un certo punto lo divora. Ed è quindi per questo che vi dico a tutti quanti, se siete vittime di usura, andate con fiducia alle forze dell'ordine e denunciate per porre fine a tutto questo perché altrimenti non ne uscirete più. E così insomma abbiamo parlato di tantissime cose in questo video e anche di troppe, vi rifaccio ancora vedere la copertina Il Diavolo Negli Occhi, lo trovate su Amazon.it Fernando Bastoli Il Diavolo Negli Occhi e poi c'è Insania, racconti inquietanti, cinque miei racconti con cinque racconti dell'autrice genovese Silvia Fasce, sono tutti, quasi tutti tranne due inediti già stati premiati, hanno vinto in sostanza dei concorsi letterari Luce Nera e Oceano di Carta promossi dalla Catedrice Emiliana Senso Inverso, molto belli tutti e cinque e sono contento di averla coinvolta in questa antologia perché ritengo che i suoi racconti siano veramente molto molto carini. Alla prossima dove avremo nei video in cui parlo di letteratura avremo la possibilità di parlare più approfonditamente, magari coinvolgerò anche Silvia nella lettura di alcuni di questi racconti. Continuate a seguirmi, siete diventati 1230, proprio oltre ogni previsione e quindi sono molto contento. Alla prossima!